Il primo test non è un esame scritto ma la rilevazione della temperatura. L'esame di maturità ai tempi del covid sostituisce il compito di matematica con i numeri sul termometro, lascia passare d'obbligo prima di poter fare ingresso sorvegliati anche da rappresentanti della protezione civile della Croce Rossa tra i banchi dopo quattro mesi di stop e facendo attenzione al distanziamento. Poi l'emozione resta quella di sempre palpabile tra i candidati saranno poco più di 14.000 in provincia di Salerno ma anche tra i genitori uno solo dei quali è ammesso ad assistere alla prova del proprio figlio. Fiori e fuochi d'artificio in carta accompagnano il gel igienizzante all'ingresso e all'uscita dei candidati alle prese con una maxi prova di colloquio orale che riassume tutte le prove precedenti. Commissione interna, presidente esterno ed un accesso come dicevamo alla scuola sorvegliato da operatori scolastici ma anche dai militari della Croce Rossa che per esempio davanti all'ingresso del liceo classico e scientifico De Santis di Salerno hanno controllato il rispetto delle regole di distanziamento e sorvegliato sugli studenti che qualche critica sì l'hanno ammossa soprattutto sulla confusione che è stata generata prima di definire le modalità con cui sostenere l'esame. Oggi la maggior parte di loro è però d'accordo sul fatto che superata la difficoltà di doversi preparare a distanza senza poter avere un confronto costante e continuo con i propri docenti questo tipo di esame è apparso certamente più semplice del tradizionale. Appena terminato l'esame di maturità l'emozione resta la stessa? Infatti sto ancora in ansia non ci credo che è finita. Come hai accolto queste modalità diverse da quelle tradizionali? In maniera positiva anche perché a differenza di ciò che si pensa sono contenta delle modalità adottate comunque c'è sanificazione, tutto igienizzato, le rispettive distanze tra i professori e anche lo schermo perché noi abbiamo interagito con i professori attraverso uno schermo e senza l'utilizzo della mascherina per poter comunicare meglio. Quanto è durato l'esame? Un'ora. Signora lei ha voluto assistere all'esame di sua figlia, le è stato consentito ovviamente con tutte le regole di distanza? Sì assolutamente sì e sono ancora emozionata. Non toglie questo tipo di modalità nessun tipo di emozione? No no assolutamente, mi stanno tremando ancora le gambe per lei, è stato bello, mi sono commossa dentro, sono contenta, speriamo bene. La verità ho provato forti forti emozioni anche se all'inizio avevo molta paura essendo appunto il primo a svolgere questa modalità d'esame, ho avuto la fortuna che comunque i professori mi hanno confortato, mi sono preparato abbastanza bene anche nell'arco di questi cinque anni e di conseguenza è andato tutto per il meglio. Facile o più difficile l'esame post-covid? Beh, né difficile né facile, è una via di mezzo anche perché gli ultimi mesi senza professori, senza il rapporto con i professori, con la DAD che funzionava e non funzionava, si sono sentiti soprattutto per quanto riguarda gli argomenti cittadinanza e costituzione, la preparazione diciamo al percorso interdisciplinare ma fortunatamente diciamo con una buona base di fondo, ripetendo tanto tanto, si riesce a svolgere facilmente. Grazie. 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 Grazie.